Il Veggente Ungherese a cura di Vubbi Una partecipante chiese al Veggente «Ma lei come ha fatto a vedere un incidente accaduto tanti anni fa? Mi prende uno strano malessere, come un vortice che tende a portarmi via da dove sto. Con il tempo ho capito che si tratta di un vuoto mentale, come se non avessi più la mente. Un vuoto che devo colmare con qualcosa, ma non so con che cosa. È come se mi affacciassi su un paese ignoto. E poi chiese un altro. Appunto, poi il vuoto è colmato da una qualche notizia, come quella dell'incidente in moto. Tutto mi viene da un luogo dove io mi sento solo ed estraneo e forse per questo impaurito. Allora comincia a vedere. Il Veggente rimase in silenzio. Sembrava che guardasse i presenti da dietro una nuvola. Dopo un po' rispose Puoi tanto che mi seguiste in questo paese dell'ignoto. È generoso da parte tua. Ti dispiace se ci penso su, scherzò, la partecipante. Non ci pensi troppo, altrimenti non ne farà niente, disse il Veggente. Perché? Perché credo che il fenomeno di cui io sono tramite, e tutti i fenomeni che sono chiamati paranormali hanno poco a che fare con la mente.